Grazie signor Presidente e grazie anche a Peter Tushor per questa ospitalità che ci viene così generosamente offerta. Il concetto di crisi della coscienza europea introdotto da Paul Hazard nel 1935 è entrato ormai a far parte del linguaggio comune per denotare il mutamento di orizzonte che preludeva al tramonto dell'antico regime. L'idea che intorno a 1680 tutto si sia messo in movimento allo scopo di trasformare il vetusto edificio costruito con i criteri classicheggianti del Rinascimento verso una modernità tutta da inventare ha segnato la percezione comune. Gian Vittorio Signorotto ravvisa nei fatti accaduti a Roma nel 1662 la fine dell'Europa Cattolica. L'episodio in sé di portata limitata relativo allo scontro tra la guardia corsa pontificia e gli uomini del Duca di Crecchi, ambasciatore francese a Roma, che diede luogo per alcune ore ad una sorta di assedio a Palazzo Farnese, fu utilizzato da Luigi XIV per assestare un duro colpo al prestigio del papato, mettendo in atto l'occupazione di Avignone e minacciando l'invasione armata dello Stato della Chiesa. Si chiudeva così un'epoca iniziata negli anni Sessanta del secolo precedente in coincidenza con la fine del pontificato di Paolo IV Caraffa e l'ascesa al sodio pontificio di Pio IV Medici, cronologicamente coincidenti con la chiusura del concilio di Trento e l'inizio della prepoderanza spagnola non solo in Italia ma anche in Europa. Un secolo che aveva visto il rapido sorgere e forse l'altrettanto rapido tramontare dell'ideologia tridentina, segnato da una serie di fenomeni che la storiografia dei decenni passati ha voluto definire con il termine di confessionalizzazione, che si sarebbe attuata attraverso il controllo delle coscienze. Essa però, osservata più da vicino, probabilmente mostrerebbe più eccezioni che regole. Un fatto innegabile è comunque il consolidamento delle monarchie nazionali che utilizzarono tutti gli strumenti della retorica del potere, IV compreso l'elemento sacrale, per trovare un fondamento e una giustificazione, fino a tentare di appropriarsi in qualche modo come avvenne per la casa d'Austria dei concetti che l'epoca medievale aveva riservato ai due sommi poteri del papato e dell'impero per rivendicare lo statuto di monarchia universale. Se di Europa cattolica si può parlare, è evidente la necessità di proiettarla in una prospettiva dinamica che vede un iniziale confronto tra cattolici e protestanti, tanto nell'impero quanto in Francia, soprattutto nella seconda metà del Cinquecento, dove i cattolici furono impegnati in una intensa opera di recupero delle antiche posizioni, mantenendosi però lontani dal ripristinare la situazione precedente. Il Papa, finché gli fu possibile, mantenne il profilo di padre comune, con il quale ottenne una serie di importanti risultati dal punto di vista politico, come la regolazione delle differenze tra Spagna e Francia in occasione della pace di Verven, oppure con la collaborazione tra Gregorio XV e due principi tedeschi Massimiliano di Baviera e Ferdinando II. Ciò gli fu possibile finché le sorti dell'Europa dipesero in prevalenza dalla casa d'Austria. Il panorama cambiò quando la Francia si sentì abbastanza solida da aspirare a un posto di rilievo in Europa e rese di fatto irrealizzabile il disegno di Urbano VIII di porsi come garante della stabilità della penisola italiana fino a quel momento assicurata dalla Spagna e di mitigare il predominio della casa d'Austria in Europa. Il 1627 in questo senso è un anno cruciale, in quanto segna il fallimento di una possibile alleanza ispano-francese contro l'Inghilterra, inizialmente caldeggiata dal Papa, e il profilarsi della politica antiasburgica della Francia, una politica perseguita con determinazione, senza tenere conto degli equilibri confessionali, soprattutto per quanto riguarda la situazione dell'Impero. Si trattò di una pura politica egemonica condotta da Luigi XIII e da Richelieu, disposta anche a sacrificare le sorti del Cattolicesimo dell'Impero, oppure i due reggitori della Francia ritenevano le istituzioni cattoliche dell'Impero sufficientemente solide da resistere anche ad un attacco armato. A differenza di Clemente VIII, Urbano VIII non fu in grado di proporre le coordinate di un nuovo ordine europeo, per cui si ritrovò spesso ai margini, come si può constatare, dall'esito del Trattato di Monzon del 1626 e dalla sorte del mancato congresso di Colonia del 1636, un isolamento prolungatosi anche nei successivi decenni del secolo. La combinazione di due elementi, la debolezza propositiva del papato, che alla fine del Cinquecento rafforzò idealmente i confini confessionali della penisola italiana, e la rinnovata coscienza sacrale dei sovrani condusse alla strutturazione di chiese di Stato, anche se non chiuse nell'ambito statale come quelle protestanti, ma aperte ad una sorta di triangolazione dialettica tra il sovrano, il clero locale, in particolare l'alto clero, e il papa, considerato come centro e garante dell'unità cattolica, ma legittimato solo in parte ad intervenire nella vita delle chiese locali. Questa rete di interconnessioni fece sì che i conflitti tra l'ambito politico e l'ambito ecclesiastico fossero estremamente labili. Le rivolte di Catalogna e Portogallo, iniziate a pochi mesi di distanza l'una dall'altra nel 1640, determinarono una situazione imbarazzante per Urbano VIII, che non riuscì ad elaborare una linea politica coerente nei riguardi di Giovanni IV, mentre adotto un atteggiamento attendista e a volte contraddittorio rispetto all'occupazione francese della Catalogna, nella misura in cui perdurava l'incertezza sull'esito del conflitto. La mancata elaborazione di una soluzione politica produsse gravi conseguenze in ambito ecclesiastico. Prima fra tutte l'incerta situazione delle chiese di Portogallo rimaste a lungo vacanti perché il Papa non si decise a scegliere tra i candidati proposti da Filippo IV e quelli presentati dal re recentemente insediato. Nonostante fossero state avanzate proposte di compromesso, mentre in Catalogna si fece strada l'idea di riconoscere il candidato proposto dal sovrano che in quel momento controllava militarmente il territorio della diocese. A dispetto delle teorie belarminiane sulla visibilità della Chiesa, o forse proprio a causa dell'insistenza del cardinale e teologo gesuita su tale aspetto, il rapporto tra Santa Sede e realtà statali si misurò sulla categoria del conflitto. Il conflitto tra Paolo V e Venezia vide soccombere la Serenissima, probabilmente perché i suoi appoggi erano troppo esigui. Infatti nel 1611 e nel 1618 provvedimenti simili a quelli che avevano dato origine allo scontro furono promulgati da Filippo III per il Portogallo e per le Fiandre, senza che la Santa Sede intervenisse se non con proteste tutto sommato rituali. Nel corso del Seicento la categoria del conflitto di giurisdizione connota i rapporti tra la Santa Sede e la monarchia spagnola per quanto riguarda una serie di questioni agitate nei territori iberici. In maniera ancora più animata, se possibile, ciò avvenne negli stati della penisola italiana, indipendentemente da chi fossero governati, a partire dalla convinzione che l'Italia fosse sottoposta ad una particolare tutela del Pontefice. È interessante constatare che nel periodo in cui la bolla in cena domini giungeva allo stadio di elaborazione definitiva, si assistette ad un rapido e costante aumento della conflittualità in relazione alle materie miste, non tanto come conseguenza dell'attuazione dei decreti tridentini, quanto piuttosto di una estensione delle competenze dell'autorità civile su ambiti tradizionalmente regolati dalle norme canoniche. In Portogallo la problematica del conflitto tra la legislazione del regno e i diritti rivendicati dalla sede apostolica si pose già negli anni 70 del Cinquecento durante il governo del re Sebastiano e con il passare del tempo si sviluppò in una successione di gravi conflitti tra i collettori pontifici e le autorità locali. Nel giro di pochi anni si succedette una serie di interdetti lanciati su Lisbona da collettori troppo precipitosi o forse incapaci di gestire in modo corretto situazioni conflittuali. Fabrizio Caracciolo nel 1608-609, Ottavia Corrabboni nel 1617, Lorenzo Tramallo nel 1633 e infine nel 1639 Alessandro Castracani, ultimo della serie, accompagnato a forza al confine del regno, furono protagonisti, senza speranza di successo, di controversie con i tribunali del regno. Se la Santa Sede non fu in grado di elaborare una strategia soddisfacente di fronte agli ritenimenti del 1640 e ciò ebbe come conseguenza una interruzione trentennale delle relazioni diplomatiche, ciò è dovuto anche ad un altrettanto lungo periodo di malintesi che precedettero la rottura. Nei rapporti con la Spagna il conflitto politico procedette di pari passo con i conflitti ecclesiastici. A partire dal 1627 il conteduca di Olivares propose la prosecuzione del progetto egemonico della Casa d'Austria come l'unica possibile strategia di difesa del cattolicesimo nell'impero di fronte all'avanzata protestante. Il rifiuto di Urbano VIII di aderire a tale strategia, motivato in parte dagli esiti della guerra di successione di Mantova, condusse ad una rottura di fatto con l'impero, nel senso che l'imperatore e i principi cattolici tedeschi compresero di non poter contare sul tradizionale appoggio anche finanziario del Papa e ne trassero le dovute conseguenze. Mentre i rapporti tra Urbano VIII e la Spagna si avviarono su un binario di tensione permanente, alimentata dall'appoggio dato da Papa Barberini al progetto alternativo di assicurare le posizioni cattoliche in Europa mediante l'Alleanza Franco-Bavarese, vanificato sul nascere dalla campagna militare di re Gustavo di Svezia. La protesta del cardinale Gaspar Borja e Velasco e la fallita missione del cardinale Pasman, inviato di Ferdinando II, misero in luce l'isolamento di Urbano VIII e diedero occasione alla Spagna di iniziare un percorso di lungo periodo che avrebbe mutato nell'arco di un secolo i rapporti tra la Chiesa del Regno e la Santa Sede, passando dall'orientamento regalista della Casa d'Austria al giuridizionalismo della Casa di Borbone. Come risposta alla politica pontificia di concerto con la Francia, Filippo IV convocò a Madrid una junta la quale, inoltre un anno di lavoro, produsse un lungo documento articolato in 40 punti nel quale si mettevano a fuoco una serie di questioni in discussione tra la Spagna e la Santa Sede. Il decreto di istituzione dell'organismo emanato da Filippo IV il 14 ottobre 1631 faceva riferimento alle difficoltà opposte da Roma alle richieste del re, alla difficoltà dei suoi sudditi di vedere riconosciuti i loro diritti quando ricorrevano a Roma o al Nunzio e chiedeva che si prospettassero le opportune soluzioni. Il sovrano chiedeva all'UMI circa gli abusi di Roma a danno della giurisdizione di questi regni, come si potessero neutralizzare gli interventi del Papa in tale campo circa tutti gli abusi della casa del Nunzio e come si potrà impedire che non si mandi denaro o meglio che non si estraga denaro dalla Spagna. La Junta doveva inoltre suggerire come si potessero mettere in pratica i decreti tridentini dato che il re si riteneva responsabile della loro applicazione nei suoi regni e occuparsi di tutta una serie di questioni che riguardavano la tutela degli interessi del re e del regno presso la curia romana. Il documento inizia esaminando i titoli di sovranità del Papa. In quanto Vescovo di Roma, successore di San Pietro, capo della Chiesa e vicario di Dio in terra, gli competono la potestà ecclesiastica e la potestà spirituale per diritto divino. In quanto principe temporale il suo potere è regolato dal diritto umano e dalle donazioni degli imperatori. In quanto tale dunque non gode di alcuna preminenza sugli altri principi. Da parte sua il re, essendo monarca supremo, gode di una potestà indipendente dal romano pontefice per il fatto che è ricevuta direttamente da Dio. Nelle cose del governo politico ordinate a fini soprannaturali è necessario seguire le indicazioni del Papa. Qualora ciò non si verifichi, è il pontefice no a detener la mano e nel governo temporale. L'ottica nella quale è sviluppato il discorso nel suo complesso emerge dal rinunciato della seconda questione. Se il pontefice comandasse cose ingiuste o contrarie all'autorità reale o in pregiudizio del regno, si domanda, si potrebbe o si dovrebbe opporglisi? Il testo, concepito come una sorta di gravamina nazionis ispaniche, passa in rassegna gli strumenti giuridici disponibili per ovviare ad eventuali abusi pontifici, rifacendosi a precedenti storici fino a ricordare la giusta guerra combattuta da Filippo II contro Paolo IV per difendere i colonna suoi alleati, dalle vessazioni pontifice. Il ricorso all'analisi storica consente di rilevare un momento in cui la Chiesa Iberica sussisteva in modo legittimo, senza far riferimento al Papa. Si ricorda infatti che i re goti eleggevano i vescovi, che poi venivano confermati dal concilio nazionale o dall'arcivescovo di Toledo, e si sottolinea fortemente che los reyes godos no presentavan sino elegia, cioè non presentavano i vescovi ma li eleggevano, per ricalcare la sostanziale differenza rispetto alle condizioni attuali, risalenti ad un periodo relativamente recente, ossia ai primi decenni del secolo precedente. Inoltre i re spagnoli possedevano il diritto di patronato per il fatto di aver cacciato i mori dal suolo iberico e aver trasformato le moschee in chiese, per aver fondato chiese dove prima non esistevano e per averle dotate e arricchite con i loro doni. Il discorso quindi non si limita a proporre un metodo per risolvere situazioni irregolari o abusive, ma mediante una reale ricerca storica, non una proiezione mitica, prospetta la possibilità, benché remota, di costituire una chiesa autoctona, indipendentemente dal Papa, basandosi sul fatto che un tale organismo era già esistito in modo del tutto legittimo e quindi sussisteva un precedente reale e riproducibile. Si richiamava inoltre, anche se in via del tutto ipotetica, la possibilità di convocare un concilio ecumenico per moderare e reprimere il pontefice qualora se ne verificassero le condizioni. Chiaramente la ricerca della vera chiesa avviata dalla storiografia e dalla teologia protestante in chiave polemica contro le pretese egemoniche della chiesa di Roma aveva fatto scuola e tale categoria era applicata, sempre in chiave antiromana, anche dalle chiese nazionali cattoliche. Un secondo grande capitolo era costituito dagli eccessi esorbitanti commessi dal nunzio. Gli si rimproveravano una diffusa corruzione, gli alti costi della cancelleria, l'avocare al suo tribunale molte cause in prima istanza, contravvenendo al dettato del concilio di Trento, la violazione delle leggi del regno, le indebite interferenze nel governo dei religiosi. Nell'esercizio dei suoi poteri di collettore generale della Camera Apostolica, le situazioni irregolari si moltiplicavano, amplificate ulteriormente dagli abusi commessi dai subcollettori e da altri collaboratori che godevano di particolari esenzioni. La soluzione proposta consisteva nel chiedere al Papa di nominare un legato nato o un vescovo al quale attribuire le facoltà di cui godeva il nunzio, il quale fosse ovviamente natural e confidente, cioè suddito del regno e fedele al re. In quanto suddito del re avrebbe rispettato le leggi del regno e gli ordini del sovrano, mettendo così fine agli abusi. Inoltre, potendosi mantenere con le rendite relative al suo beneficio, avrebbe potuto eliminare le tasse della cancelleria. Una volta stabilito un sifatto nunzio, coadiuvato da collaboratori sudditi dei regni di Spagna, l'obiettivo era stabilire una rota spagnola come tribunale di suprema istanza per le cause ecclesiastiche, in modo da evitare il ricorso ai tribunali romani. Infine, per riordinare tutta la materia, riprendendo un suggerimento del cardinale Albornoz, si proponeva di stipulare un concordato sul modello di quanto aveva fatto la Francia nel 1516. Questo particolare è citato proprio nel memoriale. Sulla falsariga di questo memoriale, che peraltro riprendeva argomentazioni già ampiamente discusse nel secolo precedente, furono condotte le relazioni tra la Spagna e la Santa Sede nei decenni successivi, fino al concordato del 1753. Nell'immediato, esso servì come quadro di riferimento per la missione straordinaria del dominicano Domingo Pimentel, vescovo di Cordova, e di Juan Ciumacero Carriglio, membro del Consiglio di Castiglia, inviati a Roma per regolare la situazione del cardinale Borja, caduto in disgrazia presso il Papa dopo la protesta effettuata in concistoro. Nonostante una permanenza protrattasi per alcuni anni, i due inviati non conseguirono alcun risultato. Polivare stentò un colpo di mano nel 1639, in un momento di crisi che vide contemporaneamente coinvolti il nunzio a Madrid e il collettore di Portogallo, riuscendo a far chiudere per alcuni mesi il Tribunale dell'Annunziatura di Madrid. I risultati pratici di questo braccio di ferro furono modesti. Il nuovo annunzio Cesare Facchinetti pubblicò un nuovo regolamento dell'Annunziatura, nel quale erano precisate le competenze dei diversi ufficiali e le tariffe della Cancelleria e dei Procuratori. Esso fu però sconfessato dal Papa, che provvide ad emanarne uno di sua autorità. In quell'occasione il Conte Duca di Olivares manifestò il proposito di ridurre le prerogative del nunzio presso il re cattolico allo stesso livello di quelle godute dal suo collega presso il re cristianissimo, cioè fare in modo che non esercitasse alcun potere di giurisdizione sulla chiesa iberica. Tuttavia la sua disgrazia politica e l'ascesa al soglio pontificio di Innocenzo X riportarono le relazioni con Roma sui binari consueti, come appare dalla lunga missione di Savo Millini, rimasto a Madrid per dieci anni dal 1675 al 1685 in un periodo non esaltante per la monarchia iberica. Del resto neppure il Concordato del 1753 mutò il quadro generale delle relazioni reciproche, dato che si occupò prevalentemente della materia beneficiale, lasciando intatti gli aspetti giurisdizionali. Saranno le riforme successive, tra cui l'introduzione della Agenzia General de Preces e della Rota Spagnola a limitare l'influsso giurisdizionale romano sulla chiesa del regno. La prerogativa del Papa come dominus beneficiorum fu determinante anche nelle relazioni con la Francia. Vorrei riprendere qui alcune osservazioni proposte da Olivier Ponset nel suo Opus Magnum recentemente pubblicato, nel quale l'autore ricostruisce il periodo compiuto, il percorso compiuto dalla Francia e dalla Santa Sede nel periodo che va dal 1595 fino al 1661, ovvero dalla soluzione di Enrico IV, a partire dalla quale si ristabilì la normale amministrazione ecclesiastica nel regno alla morte del Cardinale Mazzarino, che propiziò l'inizio del governo personale di Luigi XIV. Un regno orgoglioso della sua forte coscienza comunitaria anche sotto il profilo religioso ed ecclesiastico, ma legato a Roma dal senso dell'unità ecclesiale dovuta al riconoscimento del Papa come successore dell'Apostolo Pietro e quindi garante dell'unità. Il lento processo iniziato nei primi anni del Seicento, che vide affermarsi la presenza francese a Roma a scapito del predominio spagnolo, avvenne anche attraverso la costruzione di un rapporto di reciprocità che riguardò in primo luogo le principali strutture ecclesiastiche, diocesi e grandi abbazie, e vide coinvolti diversi soggetti, in modo più diretto il clero, ma attraverso i chierici anche i gruppi sociali dei quali i chierici erano esponenti. In modo indiretto tutti i soggetti, a partire dai banchieri e dai procuratori, legati alla gestione del procedimento amministrativo di nomina ai benefici maggiori che condizionò i re e gli ambasciatori. Da parte loro, i papi utilizzarono gli stessi canali per influire sulla vita ecclesiastica della Francia. Se i decreti tridentini non furono mai ricevuti come leggi del regno, essi entrarono non di meno a far parte della prassi ecclesiale per libera scelta del clero, dando vita al secolo d'oro del cattolicesimo francese. Mediante il potere di nomina ai benefici maggiori, assicurato dal concordato di Bologna del 1516, i papi ebbero modo di influire in modo sostanziale sulla costruzione dei quadri della chiesa francese. Secondo Olivier Ponset, i pontifici dero prova di un estremo pragmatismo nel momento in cui distinsero nettamente le provisioni episcopali da quelle abbaziali. Dato che il concilio di Trento non aveva risolto il problema della commenda, i papi poterono perpetuare la prassi di assegnare le rendite dei monasteri a coloro che per diverse ragioni avevano deciso di gratificare. Analogamente consentirono ai re di Francia di continuare a gestire lo strumento della commenda, facendo tuttavia transitare la provisione attraverso la dataria, mediante una procedura che risultava più complessa e finanziariamente più onerosa per il beneficiario. Le provisioni episcopali, invece, più rapide e meno dispendiose per i soggetti che ne venivano insegniti, passavano di preferenza attraverso il concistoro, con una procedura più rispettosa delle finalità dettate dal concilio, per le quali era stata istituita la congregazione concistoriale, miranti a migliorare la qualità dei candidati alle diocesi. Anche in questo caso si formarono tre poli, costituiti dal potere regale, dal Papa e dal corpo dei Vescovi, in relazione dinamica tra loro e protagonisti di alleanze cangianti a seconda dei momenti e degli interessi. In questo panorama il nunzio in Francia svolgeva un'azione importante di raccordo. Pur non essendo titolare di poteri giurisdizionali, aveva tuttavia la facoltà di concedere grazie pontifici o di ottenerle da Roma, costituendosi così come un ulteriore fattore di collegamento tra i cattolici di Francia e la Santa Sede, anche in forza dei suoi poteri di delegato apostolico. Analogamente a quanto era avvenuto in Spagna, questo clima di sostanziale intesa, almeno dal punto di vista ecclesiastico, non fu esente da conflitti. L'episodio della Guardia Corsa del 1662 avvenuto durante il pontificato di Alessandro VII e i conflitti relativi al diritto di regalia e alla libertà di quartiere dell'ambasciata di Roma, che ebbero come coportagonista Innocenzo XI, si possono in parte far rientrare nella cornice della politica spesso spregiudicata condotta dalla Francia nel corso di quel secolo. Non mancarono anche in questo caso ripercussioni sulla vita delle diocesi, dovute al rifiuto di Papa Odescalchi di confermare i candidati presentati dal sovrano dopo la pubblicazione dei quattro articoli gallicani del 1682. Tuttavia va anche segnalata la sorpresa della corte francese di fronte al fatto che Innocenzo XI avesse accolto l'appello dei due vescovi Nicolà Pavillon di Allais e Étienne Collet di Pamier, che dieci anni prima avevano rifiutato di firmare il formulario antigiansenista. L'episodio che vide i protagonisti, i due vescovi della Francia meridionale, mette in luce la varietà di approcci e la trasversalità delle alleanze. L'opposizione tra i giansenisti e il re per ragioni politiche e tra i giansenisti e i gesuiti per ragioni dottrinali si proiettarono sulla corte di Roma, dividendo i simpatizzanti del partito francese e suscitando anche posizioni diversificate nella stessa persona. Il cardinale Francesco Albizzi, ad esempio, uno dei protagonisti della curia romana nella seconda metà del Seicento, si oppose a Luigi XIV nel conflitto della regalia, mentre per altri aspetti può essere ritenuto un suo simpatizzante, perché lo considerava l'unica autorità in grado di sconfiggere il giansenismo nel suo regno. Un elemento di discontinuità rispetto alle situazioni di Francia e Spagna è offerto dal recente saggio di Antonio Menniti Ippolito, 1664, un anno della Chiesa universale. La ricerca effettuata su diversi fondi dell'archivio segreto Vaticano mostrano come l'attività della curia romana in quegli anni fosse concentrata sull'Italia, in particolare sull'area centro-meridionale della penisola. Si rivolgevano alla curia soprattutto i laici, persone singole o comunità, spesso per lamentare abusi o lentezze da parte degli ecclesiastici, descrivendo situazioni che non di rado si trascinavano per un tempo indeterminato. Va comunque rilevato che l'autore, per evidenti ragioni, non prende in considerazione l'attività del Sant'Ufficio e di propaganda fide. La discrasia può essere compresa confrontando le differenti modalità con cui la Santa Sede interveniva nel regime interno delle diverse Chiese. Rispetto alla Francia, la Santa Sede intratteneva rapporti istituzionali definiti dal concordato in rapporto alle provisioni beneficiali, mentre l'Annunzio, pur privo di poteri giurisdizionali, manteneva solide relazioni informali con l'elite locale. In Spagna le nomine ai benefici maggiori erano regolate in ultima analisi dagli accordi intercorsi tra Clemente VII e Carlo V, che confermavano intese precedenti, mentre l'Annunzio aveva ampi poteri di giurisdizione, più volte contestati, ma limitati solo verso la fine del XVIII secolo. Diverso è il discorso per le Indie, sulle quali l'Annunzio rivendicava una competenza limitata dal regime di patronato, con l'avvertenza però che una nutrita serie di problematiche esulava delle competenze del regime patronale e quindi trovava soluzione a Roma. L'Italia invece, dal punto di vista giurisdizionale, dipendeva in maniera più diretta dal Pontefice Romano nella sua qualità di primate d'Italia e per ragioni di contiguità geografica e di continuità storica. L'idea di rappresentare la Chiesa Cattolica come una federazione di Chiese che ritrovano la loro unità nella persona del Romano Pontefice in quanto successore dell'Apostolo Pietro e Vicario di Cristo, pur mantenendo a loro interno una varietà di tradizioni liturgiche, religiose e organizzative, può descrivere bene la realtà dell'Antico Regime, cui è estraneo il concetto di centralizzazione, in quanto ammette la simmetria delle sovranità, degli ordinamenti e delle autonomie. Se il Concilio di Trento aveva inaugurato un periodo di protagonismo del papato nel panorama politico ed ecclesiastico di allora, non aveva tuttavia prospettato un'impensabile politica di centralizzazione. Il periodo tridentino inaugura invece la funzione arbitrale della sede romana nel campo della dottrina, caratteristica che ebbe un risalto particolare dalla seconda metà del XVII secolo in avanti. L'istituzione della Congregazione del Sant'Ufficio come supremo tribunale della fede e della morale e l'istituzione della Congregazione del Concilio come unico interprete autentico dei decreti di Trento definiscono un binario dottrinale e un binario giurisdizionale paralleli e indipendenti rispetto all'ambito dell'azione politica. Le problematiche relative alla soggettività umana, focalizzate da Lutero e dai riformatori e riunite nell'ampio contenitore denominato controversi sulla grazia, cui si aggiunge come corollario la casuistica, tennero a lungo occupati teologi giuristi e spirituali di tutta la cattolicità e sollecitarono ciascuno per la propria parte un attivo intervento del Pontefice in quanto garante dell'unità dottrinale secondo una tradizione concordemente accettata. Da qui il ricorso a Roma di jansenisti belgi e francesi, come pure la presenza di Miguel de Molinos recattosi al centro della cristianità per avere una conferma delle sue dottrine e darvi maggiore diffusione. Sappiamo che le sue aspettative andarono deluse, ma sappiamo anche che non poche furono le simpatie da lui riscosse nella città eterna. Più complesso il problema del rapporto tra Santa Sede e jansenismo. Gli studiosi hanno da tempo chiarito l'eterogeneità di significati che coabitano all'ombra di un albero estremamente frondoso e la complessità di un movimento che si sviluppò nell'arco di un paio di secoli. In proposito è da considerare in primo luogo il differente orientamento tra il mondo romano e il mondo franco-belga per quanto riguarda il vissuto religioso e l'orientamento teologico. La riflessione culminata con l'approvazione da parte dell'Assemblea del Clero di Francia dei quattro articoli del 1682 definisce in primo luogo un modello di chiesa nella quale i vescovi si sentivano coinvolti insieme al Papa e al suo stesso livello della cura dei fedeli loro affidati, corresponsabili non solo negli aspetti pastorali ma anche nella custodia del patrimonio dottrinale, quella tradizione con la T maiuscola che il Concilio di Trento aveva definito come fonte della rivelazione al pari della scrittura. Senza negare dunque, anzi accettando pienamente il ruolo primaziale del vescovo di Roma, i vescovi francesi sottolineavano la responsabilità comune nel produrre una decisione infallibile e irreformabile nell'ambito della dottrina. Per concludere, nell'anno 1700 morirono Carlo II e Innocenzo XII. L'invasione dello stato pontificio, avvenuta alcuni anni dopo, mostrò graficamente il cammino che il prestigio papale aveva percorso dai giorni trionfali della montagna bianca. Da almeno 70 anni i nunzi apostolici avevano cessato di essere gli ascoltati mediatori che operavano per conto del padre comune, una funzione che aveva senso nella cristianitas ma non trovava più posto nell'Europa multiconfessionale. Il papato per ragioni strutturali non aveva potuto stare al passo con lo sviluppo delle compagini politiche. La scelta obbligata di Innocenzo XII di abolire il nepotismo e la venalità degli uffici pose fine, come osserva Olivier Ponset, al tentativo operato dai papi della prima età moderna di coniugare il sacerdozio con l'impero, operando una scelta in favore del primo termine che i successori avrebbero confermato nei suoi tratti essenziali. Il papato decise quindi di essere in primo luogo giudice supremo e dottore infallibile, secondo un celebre titolo di Bruno Neveu, nell'ambito del sacerdozio. In tal modo operò una scelta in linea con il breve zelo domus dei di Innocenzo X che esponeva l'istituzione pontificia all'insignificanza politica ma potenziava il suo ruolo religioso all'interno del cattolicesimo, aprendo una nuova pagina che, dopo un percorso molto accidentato, sarebbe approdata al 18 luglio 1870, quando la maggioranza dei vescovi francesi firmò una definizione che descriveva il rapporto tra papa e vescovi con gli stessi termini con cui l'aveva formulata Boussouet il 18 marzo 1682 ma in modo speculare. Definimus Romanum Pontificem cum ex cathedra loquitur, ea infallibilitate pollere, qua divinus redentor ecclesiom suam indefinienda doctrina defide vel moribus instructam esse voluit. ideoque eius modi Romani Pontificis definiciones ex sese non autem ex consensu ecclesie irreformabiles esse. grazie applausi 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 Grazie.